Mi chiamo Cristian Ricciarini, oggi sono uno start-upper seriale e sentite questo rumore. Ecco, quello è il rumore che proveniva dai vecchi modem analogici 56K che insieme al mio compagno di stanza Daniele comprammo nel lontano ottobre del 1996 durante il periodo degli studi a Bologna. Dal 1996 poi sono successe tantissime cose. In un primo momento sono entrato in un'azienda e curavo tutto l'aspetto della ricerca e sviluppo. Siamo partiti, ricordo, dal sviluppare un nuovo sito internet dinamico partendo da un sito statico per poi arrivare ad oggi alla creazione della start-up Officine Creative Marchigiane che mette insieme 25 persone con diverse professionalità che hanno la possibilità di contaminarsi e di confrontarsi continuamente per poter sviluppare nuovi progetti. Diversi sono i progetti che vengono sviluppati con l'utilizzo di internet, nello specifico oggi siamo nel mondo dei social e quindi tutti i nostri progetti hanno sia una base offline fino ad arrivare a progetti integrati online in cui vengono utilizzati tutti questi nuovi strumenti che si appoggiano appunto alla rete internet. Uno di quelli più importanti che abbiamo recentemente sviluppato è una piattaforma di sharing economy. Avete presente la Airbnb delle abitazioni? Ecco, lo abbiamo fatto nel settore delle costruzioni per poter condividere le attrezzature e i materiali. Uno degli aspetti principali di questo progetto dal nome Edilmag è quella di aver potuto donare alle credenziali sia alla protezione civile sia ai comuni che in caso di calamità naturali o emergenze hanno la possibilità di reperire nel giro di pochissimi minuti quello che veramente necessita per poter andare a salvare delle vite umane. Ecco, la grande soddisfazione è aver creato un prodotto utilizzando internet che possa avere un beneficio sociale.